ciao a tutti e benvenuti in flash di untold perché bene o male sto più durare la siena o mezzo minuto allora ecco la situazione non sto caricando niente sul canale perché non ho tempo avrei qualche idea carina ma non ci vuole tempo per svilupparla e tutto quindi installarla altra cosa ringrazio tutti per i 300 iscritti finalmente terza cosa sto anche giocando di meno mi vedete anche di meno online perché mi sto preparando per un torneo di smite nelle tre versus tre quindi attenzione e forse caricherò qualche video di smite magari dopo il torneo in modo che comunque vi faccio vedere quali sono magari i team che vengono più utilizzati eccetera oltre a questo vi saluto ancora grazie per i 300 iscritti grazie grazie in chi non è tutto quello che cazzo vi pare tanto su cazzi vostri siete voi che siete venuti qua a vedere tutti sti video a sentire a me parla con un coglione e ore e ore e ore e ore e ore e ore